Questa è la Nikon D700 ed è stata la prima fotocamera professionale con cui io ho mosso i miei primi passi da fotografo professionista. Ma è stata anche una delle fotocamere più iconiche di Nikon per tantissimi anni ed ancora oggi viene ricordata per essere una fotocamera dalla qualità pazzesca anche a distanza di 15 anni dalla sua uscita. E non è stata l'unica perché Nikon nel corso degli anni ha saputo sfornare tantissime camere che ancora oggi vengono ricordate come la D700, la D800, la D810 fino ad arrivare all'ultima delle reflex, la D850. Ma con il passaggio a mirrorless qualcosa si è rotto. Z6, Z7 per poi alle più recenti Z6 II e Z7 II hanno fatto perdere quella magia che molti trovavano nei corpi macchina Nikon, quella scintilla che molti avevano con il brand, me incluso. Ma qualcosa finalmente è cambiato. Mettetevi comodi ragazzi perché oggi vi parlo della nuova Nikon Z8. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Finalmente, finalmente possiamo parlare di Nikon Z8 che ho qui fra le mie mani, che ho utilizzato e provato per un mese abbondante. L'ho praticamente sostituita a tutte le mie altre camere per poter avere una visione completa di questo prodotto perché sapete quanto io sia legato a Nikon, sapete io quanto sia affezionato a questo brand e soprattutto per chi mi si è guardato un tempo probabilmente saprà che questo è stato il brand con cui ho iniziato a muovermi nel mondo della fotografia e è stato il brand che utilizzavo fino a qualche anni fa per praticamente tutto quanto e fin dal momento della presentazione di Nikon Z8 le mie sensazioni nei confronti di questa camera sono state veramente molto forti perché mi sembrava che Nikon avesse individuato la maniera per finalmente potersi far strada in maniera decisa nel mondo mirrorless creando un prodotto al passo con i tempi e allo stesso tempo differente che andasse a differenziarsi all'interno del mercato. Nel video di oggi voglio raccontarvi la mia esperienza con lei, le mie sensazioni, le mie impressioni per cui prima di andare su quelle che sono state effettivamente le mie impressioni e le mie considerazioni su questa fotocamera capiamo cosa abbiamo fra le mani e soprattutto capiamo che cos'è Nikon Z8. Abbiamo fra le mani un sensore full frame da 45,7 megapixel stabilizzato con la possibilità di registrare video in 8k fino a 60 fps ma come sapete io non mi soffermerò sul comparto video non essendo pane per i miei denti. Troviamo raffiche da 20 fps fino a 1000 file raw mentre a 30 fps in jpeg sostanzialmente la stessa identica raffica che troviamo su Nikon Z9 e soprattutto una totale assenza dell'otturatore meccanico rendendo questa camera potenzialmente con un'obsolescenza lunghissima se non praticamente infinita. E grazie a questa cosa troviamo anche la totale assenza ad esempio di blackout durante la fase di scatto che è sì interessante è un po' tricky perché ci ho messo un po' di tempo per abituarmi a questa cosa sicuramente sul lungo periodo può essere veramente molto molto utile. Sullo schermo sono presenti degli indicatori ai bordi del nostro frame che vanno a indicare che appunto la foto è stata scattata. In prima battuta è un po' strano però mi rendo conto che è sicuramente una particolarità molto molto interessante di questa camera. Ma non sono soltanto queste le novità perché troviamo un body completamente nuovo rispetto ai modelli precedenti Z6 II e Z7 II ma troviamo una linea intermedia tra questi modelli e soprattutto l'ammiraglia Z9 perché Nikon Z8 è sì più grande di Z6 II e Z7 II ma è anche più piccola di Z9. Infatti questo body è molto tipico dei corpi macchine Nikon in particolar modo Reflex e la vera peculiarità di questo corpo macchina è che strizza l'occhio in una maniera pesantissima all'esperienza Reflex di Nikon che tantissimi fotografi e utenti Nikon hanno apprezzato nel corso degli anni e sicuramente hanno perso con l'avvento di Z6 II e Z7 II e che magari hanno ritrovato con Z9. E questa cosa è molto interessante il corpo macchina è indubbiamente un corpo macchina più grande della media delle camere di questa categoria è un corpo macchina pesante presente massiccio ma che allo stesso tempo è il punto di forza di questa fotocamera perché Nikon Z8 in mano ha un'ergonomia paurosa è una camera che da tenere in mano è piacevolissima nonostante sia bella presente e pesante ma allo stesso tempo trasluda da tutti i pori ergonomia e questa ergonomia non la troviamo soltanto nella maneggevolezza del corpo che è praticamente impossibile da far cadere da perdere fra le mani in maniera salda ma anche nella disposizione dei pulsanti perché sì Nikon Z8 presenta la disposizione dei pulsanti più classica di Nikon chiaramente con delle rivisitazioni dovute al nuovo sistema mirrorless che però permettono di garantire all'utilizzatore una totale personalizzazione del corpo macchina a proprio piacimento. Il corpo macchina di Nikon Z8 passatemi il termine è un corpo macchina analogico perché l'obiettivo palese di questa fotocamera è quella di ridurre al minimo l'utilizzo fondamentalmente dello schermo dei menu degli automatismi della camera che sì sono presenti e affronteremo in un secondo momento all'interno di questo video ma grazie alla disposizione dei pulsanti grazie ai tanti pulsanti presenti infatti sono presenti ben quattro pulsanti personalizzabili sparsi all'interno della camera che diventano cinque nel momento in cui si rimane in modalità foto e di conseguenza il pulsante di registrazione può diventare un pulsante personalizzabile a proprio piacimento si ha la possibilità praticamente di non entrare mai nei menu grazie a una personalizzazione ovviamente sapiente dell'utilizzatore cosa che ad esempio io ho fatto mi sono impostato la camera con tutti questi pulsanti con tutte le funzioni che io tendenzialmente vado a ricercare nei menu quando utilizzo delle fotocamere in modo tale da non dover mai durante una fase di scatto entrare nei menu se non per rarissime occasioni pochissime cose che magari sono figlie di esigenze del momento dettate da una situazione veramente molto molto specifica e particolare questa cosa ragazzi è l'apoteosi per chi ama utilizzare corpi macchine in maniera molto approfondita e molto profonda ed è l'apoteosi per un professionista perché meno tempo si perde all'interno dei menu più tempo si può dedicare esclusivamente alla fase di scatto e nicon z8 vi porta totalmente ad immergervi all'interno della fase di scatto proprio grazie a tutte queste possibilità che vi mette a disposizione chiaramente nel momento in cui voi non vogliate utilizzare tutti questi tasti preimpostabili cosa che trovo abbastanza stupida nel momento in cui si hanno a disposizione chiaramente la fotocamera presenta tutti gli automatismi tutte le possibilità legate a menu touchscreen insomma tutto ciò che ormai siamo abituati a vedere in tutte le fotocamere più moderne che potete sfruttare a vostro piacimento personalmente questo passo indietro verso una fotografia più vicina a quella del mondo reflex ma che allo stesso tempo rimane estremamente al passo con i tempi l'ho trovata qualcosa di veramente fantastico che solo questa camera ha saputo restituirmi molto interessante anche la presenza di un joystick nell'angolo basso della camera che sostanzialmente adibito per gestire impostazioni legate alla messa a fuoco molto comodo sia nell'utilizzo verticale che orizzontale della camera e proprio sul verticale mi vorrei soffermare perché finalmente ho trovato all'interno di una fotocamera il layout delle impostazioni che noi stiamo andando a gestire durante la fase di scatto ruotabile in automatico in verticale andando a posizionare tutti gli elementi in modo tale che siano perfettamente utilizzabili e leggibili durante un utilizzo appunto verticale della camera che in combo con il display molto grande da 3,2 pollici snodabile in diverse direzioni ma non flippabile verso se stessi perché palesemente non è una camera per auto riprendersi rendono l'esperienza con Nikon Z8 veramente molto molto interessante e finalmente qualcuno è riuscito a capire che i menu si possono ruotare in verticale mi raccomando i menu all'interno della camera quindi tutte le voci di impostazioni che noi possiamo andare a gestire quindi non i menu rapidi non si ruotano in verticale ma capisco anche il perché perché effettivamente sarebbe veramente molto complesso andarle a leggere e gestire in verticale soprattutto le voci più lunghe magari da scrivere che avrebbero bisogno di più righe ma raccontata così sembra quasi che Nikon Z8 sia tutta ergonomia ma in realtà di sostanza sotto il cofano della camera ce n'è veramente veramente tanta e sono tante chic sparse in giro per il prodotto che fanno capire che Nikon ha pensato all'utenza che utilizzerà la camera a partire dall'assenza completa di file non compressi ma qui troviamo un file raw lossless che di conseguenza è un file che va ad ottimizzare il peso del file raw a differenza del classico file non compresso ma che allo stesso tempo non ha perdita di file di conseguenza non avrebbe senso lasciare il file non compresso pesantissimo e scomodissimo da gestire inoltre è presente a differenza della concorrenza anche la possibilità di avere due file raw con un'efficienza di peso e ovviamente con una conseguente perta di dettaglio molto elevata di conseguenza con la possibilità di andare a gestire il peso del file con un settaggio intermedio e con un settaggio elevato dove il file raw va a pesare veramente molto molto poco questa cosa secondo me è molto utile per chi ad esempio fa fotografia sportiva si trova in quei contesti in cui deve produrre foto a raffica in grandi quantità e di conseguenza non ha interesse ad avere il file alla sua massima espressione risoluzione questa è una possibilità veramente molto molto interessante soprattutto parlando di un sensore da praticamente 46 megapixel che genera file veramente molto impegnativi dal punto di vista del peso alla loro massima qualità e proprio parlando dei file sinceramente c'è veramente poco da dire ragazzi i file di nikon z8 sono i classici file nikon alla loro massima espressione sono file con una gamma dinamica elevatissima sono file con una qualità del colore di tutto rispetto ed è stato ciò che mi ha fatto innamorare del brand ciò che non ho trovato con z62 e z72 e che con z8 finalmente torna ai suoi pasti più alti che abbiamo visto nel mondo reflex fino ad arrivare alla di 850 che secondo me al momento è la maggiore espressione del mondo reflex in circolazione secondo me c'è veramente poco da dire sappiate che nel momento in cui iniziate a scattare con nikon z8 troverete esattamente ciò per cui nikon è stata conosciuta nel corso degli anni dal punto di vista della qualità di immagine sempre parlando di cose pratiche nikon z8 è una camera che anche dal punto di vista dell'autofocus presenta delle novità veramente molto interessanti sapete che io non utilizzo tutti questi automatismi e tutte queste modalità automatiche perché per il tipo di fotografia che faccio non sono utili e quasi paradossalmente diventano più un impiccio che una reale utilità ma z8 è la prima camera in circolazione ad avere fino a nove tipi di soggetti diversi da riconoscere in maniera automatica e inoltre nikon garantisce un riconoscimento dell'occhio nei volti umani fino all'occupazione del 3 per cento all'interno del frame complessivo che come vedete dal test di nuova impressione funziona in maniera clamorosamente perfetta e quasi inquietante come riesca a funzionare così bene e questa cosa è tanta roba ad esempio per chi utilizza tanto queste modalità soprattutto dal punto di vista video trovo che possa essere veramente di grande aiuto e molto bene nikon aver implementato tutte queste chicche e novità per rendere questa camera al passo con i tempi che secondo me male non le fa so che i puristi soprattutto della fotografia tendono ad utilizzare queste queste caratteristiche però è bene che ci siano anche soltanto per andare ad acquistare e a colpire una fascia di mercato che dà tanto peso a queste cose cosa che ad esempio non facevano z72 z62 che secondo me lato autofocus peccavano un pochino ma come ho detto prima di funzioni interessanti praticamente ce ne sono in ogni angolo a partire dalla possibilità di scattare fino a 1 su 32 mila che è praticamente lo stesso tempo di scatto massimo di z9 è una cosa che io non utilizzerei mai per quello che faccio ma è giusto che sia presente anche su questa fotocamera praticamente essendo quasi in tutto e per tutto identica a z9 la possibilità di scattare con lunghe esposizioni fino a 900 secondi la possibilità di avere i tipici classici menu neri con scritte rosse di nikon e ovviamente con i pulsanti retroilluminati la possibilità di avere un mirino elettronico che secondo me è nella sua massima espressione dato che a mio avviso è praticamente il miglior mirino elettronico che io abbia mai provato è molto simile a quello di nikon z9 se non praticamente identico e a mio avviso non mi ha creato il minimo problema vedere attraverso il mirino elettronico di nikon z8 praticamente è come vedere in un classico mirino ottico non elettronico e questa cosa è clamorosa a me ha sempre dato molto fastidio l'utilizzo del mirino elettronico in questo caso l'ho utilizzato senza alcun problema ed è super super piacevole da utilizzare molto bene per una camera di questo tipo che sicuramente va a prendere anche quella fascia purista che tutt'oggi non utilizza lo schermo per andare a scattare insomma ragazzi siamo davanti a una camera completissima una camera di cui si potrebbe parlare per ore ore e ore una camera che sicuramente va a pescare a piene mani dal passato di nikon creando qualcosa che funge da ponte perfetto tra il mondo reflex per cui nikon è diventata grande e il mondo mirrorless dove nikon secondo me stava un po' brancolando nel buio nikon z8 è stato veramente come ritornare a casa per me perché avendo abbandonato la mia d700 che è stata l'ultima camera reflex utilizzato per nikon riprendere in mano z8 è stato un po' come rivivere quelle sensazioni ma con un corpo macchina che non abbia niente da invidiare alle fotocamere più moderne che ormai utilizzo per lavoro quotidianamente e questa cosa è molto molto bella è una camera secondo me dalle prestazioni elevatissime è una camera non per tutti perché ragazzi il nikon z8 non è una camera per entrare nel mondo nikon o una camera per andare nel mondo mirrorless chiaramente potete farlo ma è una camera per professionisti che hanno bisogno di un upgrade di fare un passo in avanti e questa cosa è giustificata anche dal prezzo che al momento è di 4500 euro un prezzo che secondo me è giustificato dalle grandi prestazioni di questa camera dalle innovazioni anche che mette sul piatto secondo me molto molto interessanti sapete perfettamente che non trovo sia una cosa intelligente stare qui a discutere se il prezzo è giusto o meno dato che io sono sempre della scuola di pensiero per cui se il prodotto è valido il prezzo è sempre giustificato e trovo veramente ridicolo e stupido che ci sia chi si stia lamentando del prezzo di nikon z8 addirittura che dica che sia stata sbagliata la categoria della camera perché questa camera per quanto mi riguarda è collocata perfettamente nel punto dove deve essere ed è una camera aspirazionale una camera che chi è alle prime armi o l'amatore aspira ad avere e un giorno potersi acquistare per l'upgrade definitivo ma non è una camera per chi comincia e per chi si deve avvicinare al brand è una camera che secondo me fa invecchiare in maniera clamorosamente veloce z6.2 e z7.2 che al confronto di questa camera sembrano quasi dei giocattoli e soprattutto penso a chi nel corso degli ultimi anni ha acquistato z7.2 secondo me potrebbe trovarsi fra le mani veramente un prodotto fastidioso sapendo che ho riuscito questo modello e soprattutto crea un punto di non ritorno per nikon perché z8 mette le basi per un futuro che mi auguro sia il più roseo possibile vedendo questa premessa e soprattutto mette in forte rischio l'uscita di future possibili ed eventuali z6.3 e z7.3 che ovviamente ora avranno delle aspettative altissime visto ciò che nikon ha dimostrato di saper poter fare con le proprie fotocamere mi auguro ovviamente che i futuri modelli che usciranno soprattutto modelli per la massa dove effettivamente lì gli utenti dovranno avvicinarsi al brand possono essere all'altezza delle aspettative e far tornare definitivamente nikon quella che era un tempo sicuramente il punto di partenza è ottimo la fotocamera è per me una delle migliori camere in circolazione e sicuramente salvo sorprese clamorose sarà la rivelazione di questo 2023 è una camera che mi è piaciuta tantissimo che avete potuto capire dal video e anche dallo street più vi che trovate qui in alto fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di nikon z8 fatemi sapere se avete avuto occasione di provare ad esempio al nikon party tour in giro per l'italia che c'è stato nelle settimane scorse parliamone qui sotto evitiamo per cortesia i commenti beceri legati al prezzo perché sapete perfettamente di cui non mi interessa nulla se non ve la potete permettere o comunque non è una camera adatta al vostro target ragazzi mi spiace per voi ma è giusto così detto questo ragazzi il video è finito io spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia dato un overview complessiva di quella che l'esperienza nikon z8 perché oltre a delle mere specifiche tecniche secondo me è più quasi un'esperienza d'utilizzo quella che fa la differenza in un prodotto del genere io ringrazio nikon italia per avermi dato la possibilità di portarvi qui sul canale questa fotocamera e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 qui sul canale con un nuovo video ciao